Qui tornati, vi devo dire che l'esito è positivo, nel senso non è neanche stato difficile da montare. Dentro noi troviamo le istruzioni, molto facili e di immediato apprendimento. Troviamo due batterie che serviranno ad alimentare i nostri fanali, la brugola e il tux. Come funziona questo? Allora vi faccio vedere. E' composto da due pezzi. Noi come prima cosa dobbiamo andare a togliere il tappino che c'è qui dentro, io l'ho già allentato, lo togliamo e qui avremo un buco, come voi sapete tutti benissimo. Ho messo la mia bici in equilibrio statico. Questo pezzo è composto così, è composto da un maschio e una femmina. Questo deve andare inserito qui dentro, ok? Non lo faccio perché ho una mano sola. Comunque va inserito lì dentro. Ve lo faccio vedere solo perché così capite. Dopo con questa brugola qui all'interno, vedete, c'è una vite che avvitandolo con la brugola, questo va a espansione e permette di non muoversi più. Facendo ciò noi abbiamo la possibilità, mettiamo prima la batteria in questo verso, cioè il maschio va all'interno e gli incastriamo, come vedete, la pila. In maniera che faccia contatto e questo dopo viene inserito lì all'interno nel manubrio e come fa tenuta? Questo dopo si avvita, cioè così noi lo avvitiamo e questo sarà bloccato lì sotto. È bello da dire, sarebbe anche bello da vedere. Aspettate, l'ho già montato nell'altro lato e ve lo faccio vedere. Così è come viene fuori. Ok, scusate perché ci sarà luce e quindi non vedrete tantissimo l'effetto che fa, però un minimo. Questo è avvitato, ok, quindi così si svita, così si avvita. Ovviamente voi mentre andate in bici non state a svitarlo, però è inserito bene, c'è proprio un minimo di gioco che l'ho appena montato, forse si può anche migliorare il gioco. E sopra c'è un pulsante, come avete visto è alimentato dalla pila presente all'interno. Quando voi lo andate a premere, mi posso già far vedere che lì sta facendo luce. Ok, avete una luce posteriore rossa con il logo TACS. Anteriore, andiamo a vedere. Una bella lucina che di sicuro fa minimo come quella che avevo in questione, cioè questa. Vedete? No, è anche qualcosina di più. Ma la cosa simpatica, che se uno vuole la usa, se no non la usa, ripremendo lo stesso pulsante, un'altra volta, voi avrete la freccia. Adesso perdonatemi perché col telefono non rende più di tanto e c'è anche davanti, eh. Ah sì, perché non dura in eterno la freccia. Tu la premi e vi assicuro che c'è una lucetta. Provo, oh, così si riesce a vedere. Vedete? Tu la vai a premere e c'è l'indicatore di posizione nella bici. Una cosa che, sì, è una cavolata come minimo, ma io la uso semplicemente perché così non ho più le luci qui nel cannone che non mi piacevano e quant'altro. E dopo un po', vedete, sparisce già da sola. Quindi è una cosa molto carina, poco invasiva. Per spegnerlo basta tenere premuto. Uno, due e tre. Aspetta. Uno, due e tre. Spento. E quando voi non lo utilizzate, sì, d'estate lo potrete togliere. Tanto è semplice avvitamento. Spero vi sia piaciuto. Vi saluto. Vi ringrazio tutti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.